Quando fa caldo, sapete perché ci sentiamo spossati? Perché il nostro corpo deve termorregolarsi, cioè abbassare la temperatura interna per non surriscaldarsi troppo. E questo fenomeno consuma molta energia. Anche se sto ferma e l'unica cosa che faccio è sventolarmi? Certo, in più la sudorazione tende a disidratare il corpo. Il sangue si fa più denso, il corpo deve usare più energia per la circolazione. Tutta fatica in più e resta poca energia per fare le cose, ecco perché siamo fiacchi fiacchi. Ma niente paura, la natura rimedi per tutto. Il cibo è la prima risorsa anti caldo e anti stanchezza. Il frutto più idratante è l'anguria con il 92% di acqua e la verdura più idratante è il cetriolo con il 97% di acqua. Ecco come inserirli nel nostro menù anti-afa. Al mattino tre pezzi di anguria nel frullatore e via! Un bicchiere prima di colazione! A pranzo iniziare con un antipasto fresco e colorato con dadini di cetriolo e di anguria conditi con sale, olio e limone. Come spuntino fette di anguria o gelato o granita fatti in casa con i pezzi di anguria surgelati. A cena un antipasto di verdure crude condite con una salsina a base di yogurt magro, cetrioli tagliati sottilissimi e menta. Energia assicurata! Se ami la salute naturale metti mi piace e condividi questo video trendy e sano naturalmente. Ciao! Ciao!